Carissimi amici, è arrivato per il YouTube e oggi siamo qua con un nuovissimo gioco Non so se voi vi ricordate Fat Pusher, quel gioco dove noi dovevamo mangiare sempre di più per diventare sempre più grossi Ecco, è uscito un nuovo gioco molto simile, ma ve lo dico già, è anche molto più difficile Quindi che dire, partiamo subito, ma come sempre lasciate qui sotto tantesimi like Se like che lascerete sarà pari, il cibo associato saranno le patatine fritte Se invece like sarà dispari, il cibo associato sarà un hamburger Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale cibo vi è uscito fuori Iscrivetevi al canale con la campanella attiva, così anche voi farete parte della Parino Family Ma adesso partiamo subito, cominciamo e cominciamo questa nuova corsa Ok, allora devo partire qua e devo correre, devo cercare di mangiare tutto Solo che il personaggio va anche molto veloce, quindi difficilmente si riescono a prendere qua i cibi Guardate qua, va veloce, va troppo veloce, diventa più difficile Aiuto, aiuto, aiuto Uh, la calamita, perfetto, perfetto, andiamo, andiamo, andiamo Ah, spettacolare Alla fine del livello ci aspetta un boss finale da sconfiggere E lo dobbiamo sconfiggere spingendolo sempre di più Vai, quanto mi ha preso? No, seriamente, quanto mi ha preso? Il per 9 o il per 10? Perché era rimasto lì bloccato? Si era fermato di là? Vabbè, e proseguiamo, andiamo avanti Tra l'altro qui c'è pure uno shop, quindi io andando avanti con le monete posso sbloccare i capelli dell'omino Va bene, partiamo subito Purtroppo non c'è suono all'interno di questo gioco, peccato, peccato No, 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 aiuto, aiuto, aiuto Ho perso tanta roba, ho perso tanto cibo che potevo mangiare Mangia, mangia, mangia tutto personaggio, mangia tutto, mangia tutto Dobbiamo diventare sempre più potenti Spettacolare, siamo arrivati alla fine Vai, vai Michetto, dai che già facciamo già Possiamo fare, spettacolare, vai E adesso il per 10 l'abbiamo preso L'abbiamo preso come il per 10 Quindi direi di proseguire Tra l'altro sarebbe bello tipo da fare un confronto fra questo gioco e Fat Pusher Così da trovare il gioco migliore, quello migliore tra i due Perfetto, torniamo a correre Prendiamo tutti i cibi che ci sono Mamma mia, mi sta venendo una fama vedere tutti i cesti con i polli al rosto Con le coscette di pollo Uh, ho preso una chiave Vai, 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 corri, corri, corri Ecco, poi più va avanti E più il personaggio inizia a dimagrire Perché la corsa lo mette in forma, no? Cioè lo fa dimagrire E devo fare pure attenzione perché ci sono i tapirulani durante questo percorso E non solo per nulla amichevole Uh, beh, dai È andato bene Livello superato e completato alla grande Continuiamo qua, prossimo livello E iniziamo questa nuova corsa Ok, amichetto, sei pronto? Mettiamoci qui a correre a mangiare tutti i cibi che ci sono Tra l'altro mi chiedo come faccio a mangiare tutti questi cibi correndo in contemporanea No, 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 no Cosa? Il salto, no, no, no Il salto fa dimagrire, fa dimagrire il salto Ho preso l'ostacolo, prima aiuto Ok, ok, però abbiamo recuperato Abbiamo recuperato, perfetto E adesso c'è l'amichetto dai capelli rossi Cos'è? Super Saiyan God con i capelli rossi Però l'abbiamo sempre sconfitto Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta a vincere questa gara A questo percorso Questo livello Tra l'altro qua per sbloccare qualcosa Devo aspettare Mamma mia, 750 manette E quando ci arriverò mai io a 750? Quando ci arriverò mai? Qua è difficile Ok, corri, corri, corri Anzi, non correre più di tanto E non sbattere contro gli ostacoli Ok, perfetto, perfetto Mangia tutto, mangia tutti i cibi che trovi Un'altra chiave Una chiavetta, perfetto No, no, l'ostacolo L'ostacolo da saltare È perché l'ostacolo da saltare È attività fisica Quindi mi fa dimagrire Ok, prendiamo la rincarica La rincarica Ok Non mi mancavano le parole inventate Effettivamente era da un bel po' di tempo Che non mi uscevano fuori parole inventate Mentre registravo Era davvero da un sacco di tempo Riprendiamo questa corsa Dai, almeno una skin vorrei sbloccarla Vorrei sbloccare una skin Prima di concludere il video Ok, ok Anche due in realtà Non mi dispiacerebbe sbloccare due skin Ho preso la chiavetta Ho preso la chiavetta Così adesso prepariamoci Ad aprire le ceste Ok Adesso qua c'è l'amichetto Dei capelli grigi E lo sconfiggiamo subito Beh, devo dire che comunque Andando avanti Il gioco Non è che diventa Tanto più difficile Ma non lo dico neanche Ad alta voce Perché l'ultima volta Che ho detto Che questo gioco Non è tanto difficile È uscito fuori Just Draw L'avevo detto su Just Draw Una roba del genere Ed è diventata una delle serie Più difficili Che io abbia mai fatto Proprio nella mia vita Da youtuber Ok Scegliamo qua la cesta Apriamo di qua Vediamo cosa c'è Soldini E le prendo molto volentieri Altri soldini E soltanto 20 monete E datemi un po' di più E 20 monetine Che ci faccio con 20 monetine Che ci faccio Comunque stiamo proseguendo Stiamo diventando sempre Pian piano più ricchi Cos'è? Questa è una sorta di livello bonus Non c'è niente alla fine Bonus level E vabbè Però potevano darmi più monetine Per essere livello bonus Cioè mi hanno dato spiccioli proprio Spiccioli Guadagno di più dei livelli normali Che da questi bonus E vabbè Non importa Non importa Prendiamo tutto Prendiamo tutto Veloce Veloce Carry carry personaggio Mangia tutto Mangia tutto quello che trovi No Oh 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 Fai attenzione agli ostacoli Eh Fai attenzione agli ostacoli E anche ai tapirulan Che tapirulan ci fanno dimagrire Uh La calamita La calamita in questo gioco Attira pure il cibo Il che è una cosa molto molto buona Ok Sconfiggiamo l'avversario Poi per Si ferma lì a metà Non so se è per 10 Per 9 Per 9,5 Che è quella roba lì Vabbè Non facciamoci domande Non facciamoci domande Dopotutto in questi giochi Uno o meno si fa domande E meglio è Ok Perfetto perfetto Ci sono più misteri da scoprire In questi giochi No il salto Il salto fa dimagrire Aiuto Non saltare Non saltare Se devi saltare Fallo con calma Altrimenti poi dimagrisci Ti metti troppo in forma Ok Torniamo qua Torniamo qua Ad affrontare il nemico Spettacolare Vai Livello completato Completato Stavo dicendo Ci sono più misteri In questi tipi di giochi semplici Che su giochi come su Evil Nun Ice Cream Mr. Meat E compagnia dicendo Ok Riprendiamo qua Corri Vai personaggio Mangia tutto Mangia tutto quello che c'è E non lasciare nulla Perfetto Ok Una chiave Una calamita Così prendiamo tutto il cibo Che c'è Spettacolare Vai E adesso affrontiamo il nemico Affrontiamolo E sconfiggiamolo Verso la fine Sì Il bello che Meno male che si ferma il per dieci Perché poi dopo C'è il vuoto Quindi vuol dire che il nemico Piu Lo facciamo volare Da queste altezze Proseguiamo qua Continuiamo con questi livelli Dai che forse riusciamo a sbloccare una skin Forse ce la facciamo Possiamo farcela Secondo me se mi ci metto di impegno Ce la faccio Ok No 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 Sto dimagrendo Sto dimagrendo Aiuto 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 No 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 Ok ok Dai che ci abbiamo fatto Ci abbiamo fatto Devo dire che qua ho trovato Molte più difficoltà Rispetto a prima Ma di tanto Vai 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 Prendi la rincorsa E lancialo fuori Per dieci Spettacolare Vorrei comunque vedere cosa succede quando si perde Quindi adesso io perdo Perdo Cos'è No no Voglio perdere Voglio perdere Voglio vedere cosa succede se perdo Ah ok Non si perde Non si perde Ma che è sta roba rosa Ma cos'è Barrette dietetiche Cos'è Aspettate ho trovato il modo per perdere Quando arrivo di qua Ma vi faccio vedere Sali qui sopra Bravo personaggio Non mangiare troppo Perché dobbiamo perdere Quindi non mangiare Però le monete Prendile pure Le monete prendile Vediamo qua Da magrolino verso la fine del livello Vediamo cosa succede Ok Vediamo Dai dai No no Non ce la faccio Non ce la faccio Sì E vai Siamo riusciti a perdere Da notare che mi sono dovuto impegnare per perdere Non è una cosa normale Solitamente uno si dovrebbe impegnare per vincere Io invece ho dovuto impegnarmi per perdere Va bene Riproviamolo allora Riproviamo Perfetto Sto giro però gioco bene Quindi prendiamo qua Cos'è sta roba Barrette dietetiche Panini No penso che siano tipo dei Wurster Salsicce Non ne ho idea Però mangiamo tutto Tutto quello che ce lo dobbiamo mangiare Vai 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 Però le cosce di pollo mi danno più cibo Sì è vero Mi davano più cibo le cosce di pollo Che ste robe qua Ridatevi le cosce di pollo Sono più buone Sono più buone So Mangia 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 personaggio Mangia tutto Mangia tutto Corriamo Vai 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 Veloce 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 Spettacolare Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Sì a sto giro abbiamo vinto A sto giro abbiamo vinto Insomma cosa pretende di fare Costui Cosa pretende di fare Con un personaggio potente Come il mio Guardatelo qua Com'è bello potente Continuiamo qua Uh livello bonus Sì ma tanto Sti livelli bonus Guardate qua Spiccioli mi danno Soltanto monetine così E datemi qualche monetina in più E guardate Mettono solo le robette così E vabbè Prendiamo Prendiamo tutto quello che c'è Dai Sì che ce la facciamo Riusciremo a sbloccare la nuova skin Ce la faremo Perché siamo già quasi a 700 monete E la skin si sblocca a 750 Quindi ancora 58 monete Ok Cos'è sta roba No vabbè Che buoni Questi sono buonissimi Vai 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 Mangia tutto Mangia tutto Mi sta venendo una fame Mi sta venendo una fame A vedere tutto sto cibo No Gli ostacoli Gli ostacoli No 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 Non sono una cosa bella Gli ostacoli fanno dimagrire Quindi Meglio evitarli Meglio non prenderli Perfetto Però prendi tutto quello che c'è No Ho detto che gli ostacoli Fanno dimagrire Quindi non prenderli Per nessuna ragione Al mondo Corri 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 Perfetto Perfetto Spettacolare Adesso c'è qua l'amichetto biondo Che dobbiamo sconfiggere E lo sconfiggiamo subito Vai che bel volo Che gli abbiamo fatto fare Che bel volo Sì Livello superato Completato Alla grande Continuiamo Ok Torniamo a correre Torniamo a correre E a mangiare sempre di più Mangiamo sempre di più Per diventare sempre più potenti Prendi qua Prendi qua le monetine Mi servono anche le monetine Uh però potevo sbloccare La nuova skin Effettivamente Non ci ho pensato Non ci ho pensato Vabbè lo facciamo ora Adesso che facciamo sta corsa Sblocchiamo la nuova skin Perfetto Vai Corri in questo modo Non prendere gli ostacoli Però eh E non li prendere quelli Che non sono cose belle Gli ostacoli Non sono cose belle Adesso sconfiggiamo Qua l'amichetto Dei capelli rossi E vai Spettacolare Vai Per qualcosa Per qualcosa Ma almeno ditemi Se per 10 Se per 9 Se per qualcosa Non mi dicono niente Va bene Sblocchiamo qui random Se no con 1000 Cosa sblocchiamo Qualcos'altro No no Sblocchiamo qui random Qualche nuova skin Uh il cappellino E mettiamolo Vai 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 Perfetto Perfetto Guardatelo qua Com'è Con il cappellino Sembra molto più divertente Sembra molto più carino Simpatico Perfetto Vai 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 Mangia tutto Mangia tutto Vai spettacolare No non prendere il tapirulana Non è il momento Di mettersi qua in forma Ci sono dei momenti Che sono adatti Per mettersi in forma E momenti come questi Che bisogna Soltanto mangiare Mangiare E basta Niente di più Vai corri amichetto Corri vai veloce veloce Mamma mia quanto diventa veloce Diventa veloce Ad un certo punto Vai Io il cappellino Con il cappellino Ti sconfiggerò Vai Il cappello della potenza Guardatelo qua A me fa un sacco ridere Sto cappellino Non so voi Ma a me fa veramente Troppo ridere Continuiamo qua Uh Guardate qua Che cosa c'è Le ceste Ci sono le ceste Da aprire Apriamo la prima ceste Quanto mi danno 100 monete Oh finalmente Dei premi come si deve 100 monete E qua ancora 50 Va bene 250 monete Ma io le prendo Volentieri Le prendo volentieri Chissà magari Riusciamo a sbloccare Il nuovo Nuova skin Oh la pizzetta Guardate che buona Ma che buona qua No cos'è Sì sembra Sembra un trancì Di torta Pizza No più che altro Perché questi cibi Hanno dei colori Comunque spalsati Da quelli reali E non si capisce Bene che cosa sia Ma vabbè Sto anche correndo Velocemente Quindi non ho neanche Il tempo di capire Che cosa sia Ma l'importante È che siano cibi Da mangiare Quindi personaggio Mangia tutto Mangia tutto quello Che c'è Tutto quello che trovi Mamma mia che bello Che bello Corri 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 Sì Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Livello superato Sì non ancora superato Ma questo lo sconfiggiamo In due secondi Guardate qua L'abbiamo subito sconfitto Veloce Veloce In poco tempo Vai abbiamo vinto Continuiamo Direi di fare soltanto Più le ultime due corse Così ci mangiamo anche qua Gli altri dolcini Dopo la pizzetta Meglio mangiarsi i dolcini Ci sta Per rifarsi un po' la bocca Prendi anche qua la chiavetta E vabbè Però non prendere gli ostacoli Perfetto Salta di qua Salta di qua Mangia tutto Mangia tutto Da notare comunque Qui sopra c'è una barra Una barra di energia Noi dobbiamo raggiungere L'energia minima Per poter vincere il livello Che non è facile Perché più andiamo avanti Con il livello E più questa energia minima Aumenta Ok Vai Spingiamolo per bene Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Livello superato Completato E direi di fare L'ultimo livello Continuiamo Che tra l'altro Per poco Io non sbloccavo pure La nuova skin Per pokemonet Ma che lo facciamo ora Veloce 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 Corri 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 Mangia tutto Mangia tutto quello che c'è Il percorso che si gira così Aiuto 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 Ok Vai 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 di questo lato Perfetto Ormai Non mi faccio più prendere Da queste cose che girano Ogni volta che vado Di la sinistra Mi prendono sempre Gli ostacoli che girano Quindi io non ci vado più Ok Ora era meglio andarci Ora era meglio andarci Perfetto Dai 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 Sconfiggiamo quel nemico Cosa ha sulla testa Una coppa Ha una coppa in testa Perfetto Livello superato Completato Alla grande Continuiamo qua Direi di fare una cosa Sblocchiamo soltanto più L'ultima skin Che possiamo sbloccare Ah la coppa in testa Abbiamo sbloccato la coppa in testa Direi per il momento comunque Di fermarci qua con il video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Ti sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Condividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Ci vediamo nel prossimo video E come sempre Vi auguro una buona giornata Per la serata Una buonanotte Ciao a tutti E buon panino a tutti Ciao a tutti